Attenzione! Questo video non è originale. Siete gentilmente pregati di non cagare il cazzo. Ciao ragazzi, questo qua poteva sembrare un video ignorante, ma in realtà è un video molto serio. Approfitto di questo grandissimo speciale per raccontarvi di una cosa che purtroppo mi è successa e approfitto appunto di questa grandissima occasione per parlarvene apertamente, nella maniera più spontanea possibile. Perché quello che mi è successo è stata la seguente cosa. Un cazzo di niente. Grazie mille per aver seguito questo speciale, ora vado dal mio che babbaro di fiducia a mangiarmi un gambero.